Sconfiggeremo l'Isis ad Oras in un tempo breve. La conferma che l'ultima enclave dei jihadisti nel villaggio di Baguzzi in Siria sta per cadere e arriva dalle forze siriane democratiche e dagli ufficiali americani. I curdi sono impegnati in prima linea in quello che dovrebbe essere l'ultimo assalto. A complicare l'operazione i tanti civili che restano ostaggi, utilizzati come scudi umani dei miliziani dell'Isis asserragliati nell'ultimo fazzoletto di terra vicino al confine rekeno. Tra gli ultimi riducibili dell'Isis molti foreign fighters. Intanto i russi e il governo di Damasco hanno annunciato che alle 9 di mattina del 19 febbraio verranno aperti dei corridoi umanitari per i profughi del campo di Rukban al confine con la Giordania. Chi vorrà potrà lasciare le tende dove vivono 40.000 siriani, profughi interni, per lo più donne e bambini in condizioni disperate. Scarsità d'acqua potabile, di medicinali, di cibo e di ogni genere di conforto. Grazie a tutti.